Scusi, lei si chiama? Bernardo. E di mestiere fa? Di mestiere gelateria che viene qui al Simla. Al? Simla viene gelati. Lei voleva dire cinema? Cinema. Cinema? Cinema. Vabbè non importa. Sì. Quanti gelati ha venduto oggi? Oggi? Niente. Niente a zero, a zero. Niente? Niente gelati. Manco uno? Sì, c'è la crisi ma se vende niente, niente. Niente? Niente, zero, zero, niente. E da quanto tempo lei non vende gelati? Un poco di tempo. Mi sento da 89 che vende gelati, a zero, a zero. Lei dall'89 non vende più gelati? Più gelati, sì. Da quando è caduto il muro di Berlino? Sì. Lei non vende gelati? Berlino, sì, sì. Berlino. Berlino. Sì. E visto che stasera avete un film di successo come Il Professore Cenerentolo. 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 Ma andiamo avanti. Quanti spettatori avete? Niente, a zero, a zero. Pure con gli spettatori? Sì. Manco uno? Non c'è nessuna, manco una signora. Non c'è nessuna. Niente? Il governo ne ha metto un cuore. Prego. Il governo ne ha metto un cuore a noi. Ma a chi? A noi. Ma a chi? Il governo. Cosa fa? Le metto un cuore a noi. A tutti noi? Sì. A tutti. A tutti. A tutte le vie, l'altra sera. Le metto un cuore a noi. E noi che facciamo? Canta. Canta. Grazie. Prego. Prego. Lei non continua? Grazie. No, ho detto. Lei non continua? Sì. Mi m'ha rotto un cuore a noi. M'ha rotto un cuore a noi. Poi? Sì? Si me m'agrotto un cuore a noi. Sì. Si me m'agrotto un cuore a noi. Grazie a tutti.